lunedì 9 marzo ci troviamo a torino per il workshop di info progetto organizzato da action group editori in collaborazione con l'ordine degli architetti della provincia di torino si parla di riqualificazione edilizia sia nel settore pubblico e privato ma è anche stata un'accusione per conoscere tante aziende presenti allora vediamo le interviste che abbiamo realizzato la nostra azienda è un'azienda che ormai sono 20 anni che sul territorio ci occupiamo di sviluppo e creazione centri benessere e piscine centri benessere sia per le utenze chiamiamo alberghi strutture comunque alberghiere centri benessere per tutti i giorni centro benessere da casa poi piscine residenziali e piscine pubbliche noi abbiamo notato che sta cambiando veramente tanto nel nostro mercato appunto noi siamo della provincia di cuneo precisamente di alba paese noto per il tartufo per la nutella abbiamo notato che ultimamente siamo entrati nella zona dell'unesco in automatico siamo diventati un'attrazione proprio benevola da parte non del turista ma dall'investitore straniero tanto che comunque dalla danimarca dalla norvegia dalla finlandia dalla germania attualmente stanno arrivando questi gruppi di stranieri comunque con grossi investitori dove comprano strutture vanno creare centri golf club relais comunque hotel di alta gamma con un livello molto molto elevato di utenza